Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola In ritardo dovevo stare con papà Non vedo l'ora di iniziare Un solo anno di contratto E' una questione che riguarda i club Pioli non si fida del calendario Non è proprio tranquillo come inizio Marassi è un campo difficile Ma in casa con Chievo e Udinese Possiamo fare bene Domani a Duisburg Il primo quadrangolare Con la squadra locale Per Fiorentina1.com Riccardo Barlacchi Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola La voce del tifoso Viola